Che hai preso? Ma come ci stiamo in diretta? E certo! E io devo lavorare! Allora... Mazzola, ci vogliamo dire che è un fenomeno! Lo vedete questo? Eh? Lo vedete questo? Eh? E' l'edizione, quella che si è sempre trovata, dei Daya Straits Remaking Movies. Quello che forse non sapete, metto forse, perché potreste saperlo, però potreste anche non saperlo, quindi noi dobbiamo dirvelo, affinché voi lo sappiate, per saperlo. Eh? 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 Ma voi sentite tutti male. La prossima settimana arriverà l'edizione suprema di Making Movies. Che vuol dire edizione suprema? Un altro remaster? Sì! Arriverà l'Alf Speed Mastering di Making Movies fatto da Miles Showell negli Abbey Road Studios. E il prezzo non è 50 euro, 80 euro, 170 euro, 250 euro, 37 euro e 90 euro. Allora, noi ne abbiamo prese due carriole. Entriamo con il negozio e con la carriola con tutte le copie di Making Movies. Contattateci subito! Contattateci subito! Rispondendo a questo video, ok? Perché Half Speed Mastering di Making Movies Daya Straits va preso! Assolutamente va preso! Va preso! Va preso! Va preso! Ok? Ok? Dai con i like! Fate girare questo canale perché siamo andate informazioni pazzesche! Fatelo girare il nome del nostro canale! Dai! Jump! Un po'!